Non pensavamo che il nostro calvario sarebbe stato così lungo, ma continuiamo la nostra battaglia per avere verità e giustizia sulla strage della Moby Prince. E lo facciamo anche nel nome di Loris Rispoli, che non può essere con noi, e di Angelo Chessa, mancato quasi un anno fa. Lo ha detto Nicola Rosetti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime del Moby Prince 140, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo Civico di Livorno, durante le celebrazioni per il 32esimo anniversario della strage avvenuta il 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno. Le istituzioni sono con noi, ha proseguito Rosetti, e lo dimostra il lavoro di due commissioni parlamentari di inchiesta che hanno portato importanti novità. L'ultima commissione ha dovuto interrompere il proprio lavoro a causa della chiusura anticipata della legislatura, lasciando aperte alcune piste di indagine che ci auguriamo possano essere riprese da una prossima commissione. In questi anni, figure importanti coinvolte in questa vicenda non hanno parlato. Faccio appello perché chissà parli. Sia Vincenzo Norato che la Snam Eni facciano vedere le carte che possono chiarire quanto accaduto. Se non avremo giustizia, vogliamo avere almeno la verità storica, perché 140 persone sono state lasciate morire sulla Moby Prince? E perché i soccorsi hanno riguardato solo la petroliera Agi Pabruzzo? Un paese democratico non può aver paura di fare giustizia e verità, mi appello ai politici e ai governanti, perché prima di dare aiuti alla compagnia marittima Moby di Onorato, gli chiedano di far luce su quanto accaduto la sera del 10 aprile 1991.